E benvenuti in questo nuovo video Oggi ragazzi andremo a fare un'altra categoria della collezione Adrenalin XL 2020-2021 Oggi andiamo a vedere i mister Ovviamente sono dei tempi supplementari quindi sono delle carte plus Dopo vi devo far vedere una cosa che veramente non capisco, non ha senso Però dopo la capirete Quindi io direi di iniziare Se non vi saluto è perché è pre-registrato Iniziamo col primo allenatore che è Stroppa, allenatore del Bologna Come funzionano gli allenatori? Molto molto semplicemente questi punti che vedete qua vanno aggiunti a ogni giocatore che si trova Quindi Stroppa, primo allenatore del Bologna Poi abbiamo Italiano, allenatore della Spezia Con uno in più di Stroppa Poi abbiamo Inzaghi, allenatore del Benevento Il totale è 5 Quindi sempre uno in più Poi abbiamo Maran, stessi punti di Filippo Inzaghi Di Pippo Inzaghi, 5 Poi abbiamo Ranieri che allena la Sampdoria con 6 di totale Poi abbiamo Gotti dell'Udinese con 6 Poi Liberani Ok, poi abbiamo Liberani sempre con 6 Di Francesco con 7, allenatore del Cagliari Del Torino abbiamo Gianpaolo con 7 Iuric 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 7 Del Elas Verona Che poi qui abbiamo il logo nuovo e qui con lo vecchio Cg Poi Mialovic del Bologna Poi abbiamo della Fiorentina, abbiamo Iachini con 8 di totale De Zerbi del Sassuolo con 9 di totale Padre Pioli con 11 di totale, allenatore del Milan Poi abbiamo Fonseca della Roma, sempre con 11 di totale Poi abbiamo Gennaro Gattuso del Napoli con 12 di totale E poi abbiamo il quarto, quindi adesso abbiamo la top 3 Eh sì, ancora Pirlo non l'avete visto Preparati, preparati Quindi, top 3 Il terzo posto se lo giudica Gasperini Allenatore dell'Atalanta con 13 di totale Ha 4 di difesa in più 4 di controllo del gioco in più E 5 in più di attacco Quindi lo andiamo a mettere qua Poi Lo so, lo so Poi abbiamo Andrea Pirlo della Juventus Con 14, ha 5 di difesa in più 4 di controllo del gioco in più 5 di attacco in più Eh sì Lo so, dopo ne parliamo E poi abbiamo il primo posto Se lo va ad aggiudicare giustamente Antonio Conte Che andiamo a ritrovare qui con 14 4 in più di difesa 5 in più di controllo del gioco E 5 di attacco Quindi Il primo posto, vabbè, se lo va giudicare Antonio Conte Ci sta Pirlo Non me lo spiego Pirlo è il primo anno che allena Ho capito che è della Juve Ma non me lo vai a mettere secondo Non che mi vai a mettere Ranieri Che ha vinto il campionato inglese con l'Eister Me lo vai a mettere con 6 E mi vai a mettere Pirlo con 14 in seconda posizione Vabbè L'hanno messo più che altra squadra Allena la Juve, l'hanno potenziato Vabbè Che te devo dire Che te devo dire E qui, ditemi Qua sotto nei commenti Quale altra categoria fare di questa collezione E qui ragazzi Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Lasciate un like Vedete Noi ci vediamo al prossimo video Ciao